Dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano. Leporano, comune capofila per così dire per quanto riguarda le attività e le manifestazioni di aggregazione sociale e quale miglior e maggiore manifestazione, come dire, aggregante se non lo sport? Noi abbiamo un connubio turismo e sport. Abbiamo finito adesso con l'estate Leporano, l'estate Leporanese dove ha visto 50 appuntamenti e proprio cadenza, oggi vuole, che ci sono 50 associazioni sul territorio. Bisogna dar merito al delegato allo sport, il nostro delegato consigliere Gianmarco Fanelli che ha saputo mettere questo connubio di unire tutti gli sport, sia quelli minori che quelli maggiori, insieme su tutto il corso di Leporano. E perché diciamo questo connubio? Perché bisogna puntare sia sullo turismo ma anche sullo sport, perché lo sport è aggregazione, il turismo è aggregazione e anche l'animazione, l'animazione sociale. Tutto questo perché è una buona amministrazione, quale Leporano, che è la punta di riferimento di tutta la provincia ionica del Tarantino.